Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi il video durerà un po' di più perché voglio portarvi in un mondo magico, quello di Harry Potter. Sono andata con la mia famiglia al binario Magic Pub di Mapello. È un pub dedicato a Harry Potter appunto. Io sono una grande appassionata, mentre invece mio marito e mio figlio non tanto e devo dire che usciti di lì li ho convinti a guardare i film. Quindi è un pub per tutti. Volevo specificare che è in provincia di Bergamo. Il menù è vario, dalla pizza agli hamburger agli affettati. Comunque si mangia un po' di tutto. Devo dire che si mangia molto bene, la proprietaria è molto simpatica, la staffa è molto gentile e si possono acquistare dei gadget. Ho acquistato questa collana giratempo. Appunto c'è la sabbia all'interno. Poi ci sono le varie scritte. È bellissima. E malgrado quello che si può pensare, che magari al ristorante hanno costi elevati, devo dire che l'ho pagata poco. E poi ho preso la collana, che è questa qui, del boccino d'oro. Anche questa è stupenda. Poi comunque ci sono tazze, le cravate, insomma, i pupazzetti. Insomma c'è un po' di tutto. È veramente uno spettacolo. Quando si va in bagno si può trovare mirtilla malcontento, che caccia un urlo ogni tanto. E anche questo è molto simpatico. Volevo parlarvi dei drink alcolici e analcolici. Io e la mia famiglia ne abbiamo presi un paio alcolici. E devo dire che sono spettacolari. Arrivano in questi bellissimi bicchieri, con messa adagiata sopra il bicchiere, appunto, una nuvoletta di zucchero filato, ai gusti del cocktail che hai preso. Ed è spettacolare. Lo ripeto ancora perché mi è piaciuto veramente tanto. Comunque adesso vi lascio alla visione del video, dove vi faccio vedere quello che abbiamo mangiato e il posto che veramente merita. Fatemi sapere se lo conoscete, se ci siete stati, soprattutto se vi può interessare andarlo a visitare. Comunque vale la pena. I costi sono la media. E devo dire che ci si trova veramente bene. Il luogo è accogliente, le persone, ripeto, gentilissime. Io vi saluto. Se vi piace il video lasciate un like e vi aspetto in un nuovo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.